Ciao e benvenuto alle ultime notizie aggiornate quotidianamente. Cinque minuti fa con il cuore pesante mentre davamo la triste notizia all'attrice 67enne Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg è una rinomata attrice, comica, autrice e personaggio televisivo americano che ha avuto una vita affascinante e sfaccettata. Nata Carrie N. Lane Johnson il 13 novembre 1955 a New York City. Nel corso della sua carriera, ha ottenuto il plauso della critica, ha vinto numerosi premi ed è diventata una figura influente nel settore dell'intrattenimento. L'educazione e le prime esperienze di vita di Whoopi Goldberg hanno gettato le basi per il suo successivo successo. Nata e cresciuta in una famiglia afroamericana della classe operaia nel quartiere Chelsea di New York, l'infanzia di Goldberg è stata caratterizzata dalla ricerca della creatività, dall'influenza dell'ambiente circostante e da un forte senso di sé. La madre di Goldberg, Emma Johnson, lavorava come infermiera e insegnante, mentre suo padre, Robert James Johnson Jr., era un sacerdote. Nonostante le difficoltà finanziarie, i suoi genitori hanno coltivato il suo amore per le arti dello spettacolo fin dalla tenera età. Questo supporto, combinato con il suo talento naturale, ha portato Goldberg a esplorare varie strade creative. Inizialmente, Goldberg aspirava a diventare parrucchiera, passione che perseguì iscrivendosi alla Manhattan High School of Performing Arts. Tuttavia, le sue ambizioni si spostarono presto verso la recitazione e abbandonò la scuola all'età di 17 anni per perseguire i suoi sogni. Goldberg ha iniziato la sua carriera sul palcoscenico teatrale, apparendo in produzioni come A Mother's Love e Jesus Christ Superstar. La sua svolta arrivò nel 1985 quando presentò in anteprima il suo spettacolo personale, The Spook Show, a Broadway. Lo spettacolo, che affrontava varie questioni sociali, tra cui il razzismo e il sessismo, ha ottenuto il plauso della critica e ha attirato l'attenzione del famoso regista Steven Spielberg. Dopo il successo del suo spettacolo personale, Goldberg è passata al mondo del cinema e della televisione, dove ha ottenuto un notevole successo e ha lasciato un segno indelebile nell'industria dell'intrattenimento. Nel 1985, Goldberg ha fatto il suo debutto cinematografico in Il colore viola di Spielberg, un adattamento acclamato dalla critica del romanzo di Alice Walker. La sua interpretazione di Celiè, una donna afroamericana problematica, le è valsa una nomination all'Oscar come migliore attrice. Questa nomina ha segnato l'inizio di una carriera piena di riconoscimenti e riconoscimenti. Per tutta la fine degli anni Ottanta e Novanta, Goldberg ha recitato in una serie di film di successo, tra cui Jumping Jack Flash, 1986, Fatal Beauty, 1987, e Ghost, 1990. Il suo ruolo di Oda Mae Brown in Ghost è stato particolarmente degno di nota, guadagnandole un Academy Award come miglior attrice non protagonista e consolidando il suo status di interprete talentuosa e versatile. Oltre al suo successo cinematografico, Goldberg ha avuto un impatto significativo in televisione. Nel 1994, è diventata la prima donna afroamericana a condurre il proprio talk show, The Whoopie Goldberg Show. Ha affrontato varie questioni sociali e politiche e ha messo in mostra la sua abilità comica, rendendola una figura amata nel panorama televisivo diurno. Il ruolo televisivo più duraturo della Goldberg è arrivato nel 2007, quando si è unita alla giuria del popolare talk show The Whoopie. In qualità di co-conduttrice, ha fornito commenti approfonditi sugli eventi attuali, è impegnata in vivaci dibattiti e ha utilizzato la sua piattaforma per sostenere cause di giustizia sociale. Il mandato di Goldberg in The View continua ancora oggi e lei rimane una voce importante e influente nei media. Nel 1983 le fu diagnosticata la dislessia, un disturbo dell'apprendimento che rese il suo percorso educativo più impegnativo. Nonostante ciò, la determinazione e la resilienza di Goldberg lei hanno permesso di superare gli ostacoli posti dalla dislessia e raggiungere il successo nella sua carriera. Nel 2010, Goldberg fu devastata dalla perdita, poiché aveva un rapporto stretto e amorevole con sua madre. All'indomani della morte di sua madre, Goldberg ha vissuto un profondo dolore e ha dovuto affrontare le complesse emozioni che accompagnano la perdita di una persona cara. Goldberg ha anche lottato con altri problemi di salute, tra cui il mal di schiena cronico e il glaucoma. Negli ultimi anni ha parlato apertamente della sua battaglia contro la polmonite e la setticemia, che l'ha portata al ricovero in ospedale nel 2019. È triste, è con il cuore pesante che condividiamo la triste notizia della scomparsa dell'amata attrice, comica e personaggio televisivo Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg ha perso tragicamente la vita all'età di 67 anni nella sua casa di Glendale, in California. I dettagli sulla sua prematura scomparsa hanno rivelato che Whoopi Goldberg è caduta nella vasca idromassaggio di casa sua e successivamente è stata trovata priva di sensi dal personale ospedaliero. È stata immediatamente portata d'urgenza al pronto soccorso del Glendale Adventist Medical Center, dove la sua morte è stata dichiarata al suo arrivo. Si presume che la causa della sua scomparsa sia stata un suicidio, a seguito di un precedente ricovero in ospedale per tentato suicidio. La sua apertura riguardo alle sue lotte e ai suoi trionfi è stata d'ispirazione per molti che affrontavano sfide simili. Nel suo libro, ha coraggiosamente condiviso le sue battaglie per la salute, facendo luce sull'importanza di cercare aiuto e rompendo lo stigma che circonda la salute mentale. In lutto, familiari, amici e fan si stanno radunando per ricordare e onorare la vita di Whoopi Goldberg. Il suo funerale si è svolto presso la chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni a Glendale, dove i suoi cari e colleghi del settore hanno reso i loro ultimi omaggi. I suoi resti furono successivamente trasportati a Manhattan, New York City, per una cerimonia privata. L'impatto di Whoopi Goldberg sull'industria dell'intrattenimento e sulla società nel suo complesso non può essere sopravvalutato. Dai suoi ruoli memorabili in film come Sister Act e Il colore viola al suo commento penetrante e spirituoso come co-conduttrice del popolare talk show Deviu ha lasciato un segno in del uno manga ne vous coûtera pas 25.000 euro. Alors c'était référence a una annonce che aveva été publiée, bref, c'était assez drôle, c'était assez détournée, j'avais trouvé ça malin. Et je me suis posé une question. Combien coûterait l'intégralité, le full set manga du catalogue d'un éditeur, lequel coûterait le plus? Et j'ai donc regardé un petit peu les catalogues des 20 plus grosses maisons d'édition de ma mangatech, donc ils n'apparaissent pas tous, mais en fin de vidéo je les ai quand même pris en compte avec un petit calcul comme ça assez rapide et j'ai fait un classement de la 20ème à la première place uniquement en termes de budget. On ne parlera pas forcément manga dans cette vidéo, on ne parlera pas en tout cas précisément sur des titres, là on va vraiment s'intéresser au full set manga du catalogue de chaque éditeur, c'est un truc de dingue, vous n'êtes pas prêt. Allez on commence avec une première vague, 20ème position pour Nazca avec 700 euros, Imacho en 19ème avec 1300 euros, égalité 18ème, Mangetsu Cornelius avec 1500 euros, Vega Dupuis environ 2000 euros, Issan Manga et Kat Sterman pour les 15ème et 14ème places avec 2500 euros. On va s'arrêter là pour l'instant et on va regarder un petit peu. Forcément ce classement est dépendant de plusieurs choses, déjà le catalogue en lui-même de l'éditeur, si l'éditeur il est plus jeune il y a moins de manga sortis et donc forcément ça représente un petit peu moins, c'est le cas pour Nazca, c'est le cas pour Mangetsu. Ensuite vous avez des éditeurs dont le coût des mangas est relativement, le coût moyen j'entends, est relativement élevé. Ça va être valable pour Imacho, ça va être valable pour Cornelius, ça va être valable également pour Issan Manga. Donc ils n'ont pas forcément beaucoup beaucoup de titres dans leur catalogue par rapport à d'autres éditeurs mais ça monte relativement vite. Issan Manga par exemple vous allez avoir une moyenne assez élevée qui va largement dépasser les 20 euros par tome pour des mangas qui sont extrêmement qualitatifs mais on n'est pas sur un produit consommable.